Musica Pierangelo Del Zotto di Prima il Veneto Buonasera a voi, buonasera del Zotto Come al solito, insomma abbiamo visto tante volte che lo Stato centrale reagisce molto male a qualsiasi tentativo di concedere qualcosa, qualche autonomia in più Settiamo un altro commercialista a focus questa sera, Pierangelo Del Zotto, cosa ne pensa? È un attacco in qualche modo sia pure, verato o dovuto, cioè un atto dovuto da parte del Ministro per gli Affari regionali? Allora, io ho vissuto da assessore al bilancio della provincia di Venezia la tesoreria unica nel 2009-2010, una cosa del genere e avevo già preconizzato, guardate che poi se vanno a là, indietro non tornano più Io volevo raccogliere quello che ho sentito finora e sono abbastanza sorpreso dall'On. Martella Volevo chiedere, ma l'On. Martella abita in Veneto? Fa gli interessi dei Veneti? Perché se parliamo del recupero del fisco, delle tasse non pagate, mi chiedo qual è la differenza tra il Veneto che paga il 100% delle tasse e quello che paga l'80% e poi il 20% lo paga con il ravvedimento operoso Perché allora, se la natura del tributo è la medesima, che sia pagato in primi istanze o che sia pagato in ravvedimento operoso è sempre cosa del Veneto Qua viene fuori, con tutto il sostridore, tutto quello che stiamo sentendo in questi giorni Allora, quelli che hanno detto che la presentazione di autonomia era pastura per il voto in Lombardia Beh, forse un po' di ragione ce l'hanno, forse Il fatto che la regione Veneto non appena dice A, subito viene aggredita Mi ha fatto, mi ha stonato Faccio una parentesi, una volta ero a San Candido, forse l'ho già detto, a Indiken In albergo, in montagna, e sentivo il telegiornale romano E mi chiedevo, ma cosa c'entra con questa roba? E quando l'assessore Cazzavara parla di Stato centrale E mi fa venire fuori i brividi Perché sembra lo Stato centrale lontano dal Veneto, lontano da noi Lo Stato centrale, quello arrogante, quello aggressivo Quello che mette le imposte, quello che vessa il Veneto Che lavora, lavora, lavora e paga E qualche volta non paga perché non ce la fa a pagare E dice, piuttosto che pagare l'IVA, pago gli stipendi di me e i dipendenti Allora qua, o è appignata a scioppa, come che si dice quanto prima Perché tira di qua, tira di là, se la coperta è corta Roma non può continuare Rifaccio un discorso che ho fatto un tempo fa, anni fa Davanti al comandante della Guardia di Finanza durante un evento Allora ero assessore al bilancio E dissi, nel 1969 il mio professore di ragioneria diceva Se lo Stato incassa uno, spende due Se incassa cento, spende duecento Se incassa mille, spende duemila Siamo ancora a questo stadio qua Roma non ha il braccino corto, Roma ha il braccino lungo Perché è talmente lungo che pesca nel salvadanaio del Veneto Quindi io credo che sia l'ora di smetterla Di subire l'aggressività Ma io mi stupisco e mi scuso per l'ospite collega di questa sera Ma ripeto, martella dove vive e fa gli interessi di chi? Dei Veneti o dei Romani? Del suo segretario di partito o dei Veneti che l'hanno votato In passato, ora non più evidentemente? Queste sono le cose che mi lasciano Perché io nella mia vita ho sempre cercato di essere una persona normale Cioè di cercare di capire le cose da persona normale Io mi sto chiedendo in questo periodo Se sono strano io che vedo oltre O se la gente per comodità, perché è stanca, perché è stupida Perché non ce la fa più, perché spegne Beve tutto Perché tutto quello che abbiamo visto in questi giorni Comprese la trasmissione di di sera che ho seguito Con particolare attenzione sul bonus 110 Ci sono delle cose che tu le vedi subito che fine faranno Possibile che io anni fa dicessi ai miei clienti Lascia stare che non ti conviene Che questa cosa qua vedrai che succederà In qualche cosa di particolare Ero io che non vedevo, che non mi allineavo Perché se poi non ti allinei non sei bravo nella professione Allora io mi vedo, mi sento, mi trovo disallineato Con la mainstream di questo periodo Perché se poi la devo dire tutta E mi rivolgo all'altro collega Io una volta qua spiegai la teoria della spugna Quando lo Stato comincia a bollire Si inventano un capopopolo Che assorbe il malcontento Dopodiché Una volta assorbito il malcontento Questo non serve più E viene allontanato Possiamo fare almeno una decina di esempi Già Bossi all'epoca Potrei fare l'esempio di Pietro Potrei fare l'esempio di Grillo Potrei fare l'esempio di Salvini Potrei fare l'esempio della Meloni E allora il prossimo passaggio Sapete qual è? Che comincia Quando la Meloni arriverà al 32, 33, 34 Cominceranno a sgonfiarla Perché la gente ha votato Fratelli d'Italia Dicendo, sbattendo i pugni Adesso cambia tutto Insomma mi pare che non si sia capito Cosa sia l'autonomia differenziata Perché qui Descritta così È la cosiddetta secessione dei ricchi Ma non è questo De Zotto Veramente questa sera Io non capisco Non capisco Metà dell'universo Allora Secondo me La riforma serve A migliorare una situazione Allora io dico sempre C'è già La secessione Perché io la sanità la pago Il doppio di quello che la pagano Da Roma in giù Però se mi succede qualcosa Ho quello Che mi viene dal fatto Che ho pagato il doppio Non so se mi sono spiegato Perché poi Io che ho avuto anche Delle esperienze Sulle ULS C'è poi il turismo sanitario Cioè quando giù hanno un problema Vengono a curarsi su E io mi chiedo Perché venite a curarvi su? Perché su evidentemente Vi curano meglio Perché su vi curano meglio Ma soprattutto Perché visto che vi curano meglio Tagliano i fondi al nord Volevo fare un passaggio Direttore Un saluto All'onorevole Gottardo Che sicuramente Non si ricorda di me Ma nel lontano 75 Quando lei era dirigente In regione Mi ha prestato un libro Con obbligo di ritorno Per la mia tesi E non l'ho più restituito Ma non è tornato in niente Credo fossi i trasporti Lei qualcosa del genere No? All'epoca Eh sì Trasporti Mi sono laureato Sulla Geografia di trasporti Una tesi sperimentale Che poi mi ha fatto fare Tutto altro nella vita Volevo dire Onorevole Che il Veneto Lei ha parlato di Veneto Trentino Non Alto Adige Perché ha Il tedesco Che lo governa E il Friuli Ma io ricordo Che il Veneto Ha più del doppio Di abitanti Della Slovenia Il Veneto È più abitanti Della Croazia Che ha più giocatori Di calcio Della Germania Messi insieme No? Ecco Quindi Quello che manca Lei ha espresso Un concetto Estremamente giusto Condivisibile Da me E credo anche Dalle persone Di normale Intelletto Ma manca La materia prima Cioè Manca qualcuno Che prende in mano La bandiera Che abbia In italiano Gli attributi Ma visto che Siamo veneti Potremmo dire anche Qualcos'altro in Veneto Che prende in mano La situazione Perché Insisto Se io avessi avuto Il 98 e 8% Di miei cittadini A favore Sai cosa avrei fatto Quella volta Avrei fatto Il partito Del presidente E non mi sarei Allineato Volevo fare Un'ultima cosina Divertente Tutto sommato Per capire Come funzionano Le cose Io non voglio Come dire Prendermela Con Veritas Che in questo momento Ha problemi Ben più seri Di questi Leggendi giornali Ma io ho ricevuto Un estratto conto Della Veritas Che mi dice Avanzi 40.11 Mi devi 41.35 Dammi 1.24 Io per pagare Questo euro Ho speso 2.30 euro Di Come si chiama Il nuovo servizio Di pagamento Che si usa adesso Non me lo ricordo Pago PA Pago PA Grazie Allora Io per pagare 1.24 euro Cioè 2.000 lire Di una volta Devo spendere 5 euro Praticamente Lo trovo Veramente Iniquo Io non mi lamento Perché voglio dire Non sono né più rico Né più povero Però Perché non mi li mettono In conto Alla volta successiva Come succedeva O succede In altre situazioni Avanzi 1.24 euro Da me Te li do Con la prossima bolletta E invece Sono costretto A pagare 1.24 euro Per pagare 1.24 euro Ne pago 2.30 Di pago PA Io trovo Ripeto Non me la prendo Con Veritas Che in questo momento Come sappiamo Ho ben altri problemi Ben altri pensieri Però Tutto questo Fa sorridere Come mi fa sorridere Un'altra cosa Io purtroppo 30 secondi Ho un difetto Un pregio La memoria Io mi ricordo Qualcuno Che a Venezia Disse Se domani mattina Mi leggete Parto da Sant'Elena E arrivo in piazza Roma E quindi Ha escluso l'Ido Ha escluso l'Ido Non capisco perché Parto da Sant'Elena E arrivo in piazza Roma E destrigo fuori a tutti 8 anni fa Se voi andate a Venezia In questi giorni Altro che destrigo fuori a tutti E' invivibile la città Per i borseggiatori Per i delinquenti Per i trasporti Caro Assessore Quindi fa riferimento A chi? A Brugnano E certo Uno che mi dice Sentime voti Da domani mattina Parto da Sant'Elena E destrigo a Venezia Fin piazza Roma Non l'hai fatto A proposito di promesse elettorali Non l'hai fatto A proposito di promesse